...dalle elezioni, non funziona così. Il tema del premierato, perdonatemi se inserisco il premio, non è il premierato. E come il redditometro, ne vogliamo parlare del redditometro? E questa qui è stata fatta sotto le elezioni e se l'è rimangiata il giro di qualche ora, dicendo da Meloni che non ne sapeva nulla. Ma sai che quel decreto è stato preparato dal Vice Ministro dei Fratelli d'Italia, Leo, per mesi e mesi. Se vuole, Don Luro la chiama. Come compre, Presidente del Consiglio, far finta questa non scena che non ne sa nulla. Lei che risponde le cose sue. Ma veramente, gli italiani adesso sono veramente diventati tutti tonti che si possa raccontare... A me piace la sua energia. Presidente Conte, sono due le incertezze di Giorgia Mazzini.